buona giornata a tutti e oggi mi interessava fare un disegno partendo da un intralcio partendo da un ostacolo che alle volte mi succede di trovare oppure questa potrebbe essere un'opportunità a volte io scarivo occhio sui fogli di carta prendo appunti e poi mi accorgo che con questi appunti potrebbero essere delle delle suggestioni soprattutto per costruire dei segni sopra che poi vanno a finire poi a rappresentare qualsiasi cosa che possiamo definire naturale nuvolo in paesaggio eccetera eccetera ad esempio se io scrivo io disegno delle nuvole io disegno delle nuvole questa scritta vista così potrebbe darmi la possibilità di far nascere da questa costrizione la possibilità di far nascere da questa costrizione una forma nuova una figura nuova un disegno nuovo quindi io molte volte faccio questo tipo di di disegni mi diverto a inglobare queste scritte poi nei segni della penna ed è per quello che è importante per me riuscire a a poter eseguire dei disegni che poi possono essere osservati e se ne può vedere la la linearità temporale dell'accadimento dei segni sulle sul foglio quindi io voglio che si lega il tempo che io trascorso sul foglio a fare una determinata immagine piuttosto che un'altra adesso mi cimenterò nella non mia facile la mia facile imposizione di poter parlare mentre mentre lavoro perché come può un po' come fare parlare mentre si fa una cordata ma con tutti i miei limiti cerco di riuscire a farlo questo ecco vedete io parto da da questi segni li accompagno e poi come se li sviluppassi gli srotolassi però sempre mantenendo la lettura del segno che è sottostante quindi mi interessa fare adesso farò questa una grande nuvola al centro e manterrò questa scritta sotto questo modo qui permetto ai segni regolari di potersi unire e formare una una costruzione fantasiosa perché noi poi andiamo a finire andiamo a finire per per vederci una nuvola un paesaggio qualsiasi forma naturale ma sappiamo tutti che è solo una un incidente visivo mi piacerebbe leggervi adesso una parte di di un'intervista che io la chiamo intervista perché perché bernard emil bernard che era un pittore nabì secondo me non con grandissime doti tecniche però era molto volente rosa ha trascritto dicevo questa intervista in un libro che lui questa intervista fatta a cesà in un libro chiamo intervista perché spesso lo mandavano a trovarlo nella speranza loro gli altri pittori amici suoi che durante queste conversazioni cesà potesse svelare chissà quale mistero della della propria ricerca pittorica e allora lui gli poneva sempre domande sulla natura sulla rappresentazione a cui cesà rispondeva volentieri perché sebbene fosse da tutti considerato un misantropo una persona che non amava molto le folle lui era molto era molto grato che si interessava della sua opera non ne faceva una malattia nel senso che ha capito che 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 in vano la sua opera avrebbe potuto riuscire essere compresa durante la sua vita e quindi continuava ad avere questo grande spirito di di indagine di ricerca nei confronti del segno e soprattutto della della visione della natura della rappresentazione della natura e allora lui gli faceva queste domande sulla trasformazione della della rappresentazione della natura attraverso i secoli ma cesà non aveva nessun mistero da svelare o meglio misteri svelati e rivelati da cesà riguardano solo ciò che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni cioè i nostri occhi i nostri occhi vedono come vedono come come sanno e come sono stati biologicamente formati per farlo e naturalmente la visione che ne abbiamo una visione parziale della realtà e questo è quello che fa cesà ricostruire lo sguardo dei nostri occhi sulla tela quindi ricostruire il mondo fa un'indagine quasi archeologica alle fondi della visione perché noi vediamo una mela in quel modo lì perché non riusciamo a vedere i contorni e allora com'è una mela vista è rappresentata come se noi la vedessimo e non come potrebbe rappresentarla qualsiasi altro mezzo ma i nostri occhi e quindi da questo punto di vista lui parte fa fa questa indagine sulla sulla latura ad esempio vedete i contorni contorni degli oggetti spesso sono definiti chiaramente con un solo una sola linea perché gli occhi non hanno una sola linea non esiste una linea noi non vediamo linee le convenzionalmente la rappresentiamo ecco lui fa questo non solo convenzionalmente rappresento linea ma ne rappresenta più rappresenta più linee e questi oggetti si scompongono perché noi quando li vediamo li scomponiamo se noi prendiamo il nostro dito lo mettiamo tra l'occhio tra gli occhi e il mondo vediamo che se ci concentriamo sul dito vedremo due mondi mentre se ci concentriamo sul mondo vedremo due dita ecco voglio dirlo il il passaggio tra queste due dita da vedere queste due dita vedere un solo dito fatto dalla nostra visione binoculare dalla possibilità di poter indagare su come noi vediamo e quindi rappresentare le cose secondo questo nostro punto di vista e questo che lui ricerca perché poi noi le reinventiamo le immagini che vediamo e lui lo sa lo sa perfettamente e questo lui fa reinventa l'immagine fa ciò che farebbe l'occhio se notate i suoi lavori ogni tanto nei suoi lavori ci sono ci sono queste questi mezzi proprio di di escavazione alla fonte proprio diciamo quasi alla al momento brevitivo della nascita della visione ad esempio ogni tanto lui ha bisogno anche di mettere dei dei punti proprio di di fermarla questa visione per darci modo di di poter agguantare tutto il resto c'è un dipinto bellissimo è come sono adesso tutti quelli di Cezanne in cui c'è una mela che funge proprio come da chiodo è come se piantasse l'immagine della tela se l'andate a trovare è messa proprio nel centro poi i piani i piani che si vedono lateralmente piani che si vedono lateralmente sono piani che che a un certo punto si dietro un oggetto si dividono e magari un piano che dovrà essere completamente longitudinale da una parte è un pochino più sollevato dall'altra un pochino più abbassato perché sono sempre i nostri occhi a fare questo e quindi lui usa questo tipo di costruzione e apre la porta che poi verrà spalancato da piccasso naturalmente questa porta poi porterà alla alla rappresentazione di nuovi di nuove figurazioni e nuove rappresentazioni 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 di rappresentazioni adesso cerchiamo di dare un corpo questo all'oggetto che stiamo definendo che è partito da quei due segni che sono serviti da da la suggestione vi dicevo di questa intervista che vi ho detto prima chiami il bernardo a sesanghe mi piaceva leggervi quindi adesso mentre disegno metto una voce sottofondo e ve ne leggerò alcuni pezzi nel 1904 durante una delle nostre passeggiate nei dintorni di aes dissi a sesang cosa ne pensate voi dei maestri sono una cosa buona andavo a louvre ogni mattina quando mi trovavo a parigi ho finito per accostarmi alla natura piuttosto che a essi è necessario crearsi una visione cosa intendete con ciò bisogna crearsi un'ottica occorre vedere la natura come se nessuno l'avesse vista prima di voi siete un nuovo cartesio volete mettere da parte i vostri predecessori per ricostruire il mondo dentro di voi io non so chi sono in quanto pittore devo essere un occhio originale non ne risulterà una visione troppo personale incomprensibile agli altri dipingere non è dopo tutto come parlare quando parlo utilizzo la vostra stessa lingua mi capireste se ne utilizzassi una nuova e sconosciuta e attraverso il linguaggio comune che bisogna esprimere idee nuove solo questo può essere il mezzo per farlo valere e riconoscere per ottica intendo una visione logica ovvero nulla di assurdo ma su cosa basereste la vostra ostica maestro sulla natura cosa volete dire con questa parola si tratta della nostra natura o della natura stessa di entrambe dunque concepite l'arte come una fusione tra l'universo e l'individuo lo concepisco come una percezione personale colloco questa percezione all'interno della sensazione e chiedo all'intelletto di organizzarla sotto forma di opera ma di quali sensazioni parlate di quelle dei sentimenti o della retina penso che non esista una separazione tra di esse nonostante ciò mi rifaccio innanzitutto la sensazione visiva siete dunque come isolà della scuola naturalista voglio solo essere un pittore e faccio affidamento all'occhio per fare un quadro che è rivolto a un altro occhio bene ma cosa rimproverate i maestri a tal punto da averli abbandonati la natura e l'arte non sono due cose diverse io vorrei unirle credo che sia a partire dalla natura che si debba arrivare all'arte l'errore dell'educazione accademica e quello di limitare attraverso dei metodi che escludono categoricamente l'osservazione della natura la quale dovrebbe invece rimanere una guida voi avete ragione ma credo confondiate la routine e la tradizione i professori e i maestri lo studio della natura era il fondamento dell'arte antica leonardo michelangelo eccetera hanno compiuto enormi sforzi per trarne i rispettivi capolavori voi sapete bene quanto tempo hanno sacrificato in quelle tremende ricerche che chiamavano teoria poiché per essi l'arte aveva principio solo nel momento in cui il pittore divenuto artista poteva abbandonarsi alla creazione di opere generate dalla propria concezione è vero ma è una strada pericolosa e queste teorie estrapolate dalla natura non erano affatto la natura si studiavano le scienze ispirate dalla natura ma la si osservava pochissimo per non dire per nulla inoltre si arrivava una visione costruita che si modificava solo a seconda delle capacità più o meno rilevanti dello studioso siamo di fronte al problema principale bisogna dipingere ciò che vediamo così come crediamo di vederlo senza sapere nient'altro o ricevere un'educazione teorica simile alla metrica dei poeti che ci permetta poi di creare delle opere personali ovvero che associ la natura alle nostre concezioni propendo per il primo punto la visione reale del mondo non è ancora stata stabilita l'uomo si è cercato fin troppo in tutto ciò che ha fatto no non è egli rappresentazione dell'intelligenza io mi rivolgo l'intelligenza del pater onipotens e mi chiedo cosa posso fare meglio di lui allora mi sforzo di dimenticare i nostri illustri predecessori e chiedo alla creazione quella conoscenza che solo lei possiede lo riconosco voi cercate l'arte nella natura e la natura fuori di voi negli spettacoli percepiti dai vostri occhi è un atto di sottomissione di umiltà del quale vi aspettate ogni virtù non sono abituato a ragionare così tanto per i maestri di cui parliamo lo spettacolo esteriore casuale era un richiamo al loro genio cercavano in esso la verità del mondo e la visione dell'universo era nel profondo dei loro sentimenti nel pensiero nelle idee che cercavano di percepire i principi delle loro opere e ognuno di essi creava così dei nuovi lavori delle immagini nuove attraverso le leggi dell'arte ispirate a loro a loro volta dalle leggi della natura perfetto ma hanno rimpiazzato la realtà con l'immaginazione con l'astrazione che ne consegue ve l'ho detto ve lo ripeto occorre giungere all'immagine concreta per essere un pittore bisogna avere una visione i maestri che voi venerate non se ne erano forse creata una per nulla legata ai mezzi artistici ma piuttosto all'espressione di un'idea attraverso la concezione tra leonardo e qualsiasi altro fa di essi non trovate tutto diverso il colore la forma la composizione lo stile la vera personalità non risiede nell'uomo cosciente ancor più che nell'uomo sensuale bisogna dare un'immagine cosciente della natura finora è stato tutto incentrato sull'uomo può esistere un'immagine della natura che sia veritiera e come saremo in grado di stabilirlo ogni pittore non elabora forse una forma diversa dei suoi colleghi esistono dei quadri somiglianti goia diceva la natura non ha né colore né linee non siamo dunque vittime delle illusioni anche nella sfera sensoriale e infine i nostri sensi sono davvero così sani e perfetti per permetterci di entrare in contatto inequivocabilmente con ciò che voi chiamate natura lo so vi sono stati filosofi che hanno negato la realtà dei filosofi tedeschi per i quali tutto è illusione sogno fenomeno sono dei cialtroni negate quindi la filosofia nego tutto ciò che è assurdo e che voi a torto chiamate filosofia il pittore ha il compito esclusivo di realizzare un'immagine la vera filosofia stabilisce quale deve essere questa immagine affinché la ragione non sia esitante pascal considerava come inutile orgoglio la pretesa di dipingere ciò che l'uomo vede quotidianamente con colori e pennelli non si sarebbe in grado di farli così perfetti come appaiono nella realtà pascal aveva ragione a condannare questa vana e laboriosa pretesa ma la vera filosofia quella che indica l'uomo la strada da percorrere per giungere alla verità ci dice che il bello risiede nelle idee ben più di quanto non lo faccia nelle cose e perciò richiede all'intelletto di trasporre le cose in idee e le idee in ideale voi avreste decisamente fatto ridere Courbet credetemi tutto questo non ha nessun valore sono solo squisquiglie tra accademici ogni pensiero vi sembra perciò inutile quando si dipinge sì quando intravedo uno spettacolo perfetto voglio tradurlo per arrivarci mi anniento mi sottometto a lui aspetto che la mia personale verità venga a galla perché mai dovrei ricordarmi dei filosofi dei pittori dinanzi a questo grande libro questo maestoso scorcio la cosa più bella che esista credetemi con la natura bisogna tornare bambini quindi all'incoscienza che fate appello esattamente bisogna piegarsi a quest'opera perfetta tutto ci proviene da essa noi esistiamo grazie a essa dimentichiamo il resto gli uomini primitivi non avevano una visione originale eppure guardavano al presente senza curarsi del passato l'originalità sboccia dall'interno è una perla nata nel profondo non ho timore nell'affermare di credere fermamente che questo crogiuolo che contiene il genio sia insito all'uomo il nostro rapporto imprescindibile con il mondo visibile ci conduce attraverso l'intelligenza ben oltre noi stessi la nostra anima immortale è superiore alla materia che lo racchiude mi attengo alla pittura e mi sorprende che voi andiate a cercare così lontano per quanto mi riguarda voglio essere un bambino e proprio e provo gioia nel vedere nell'udire nel respirare nell'essere una sensibilità in estasi che analizza e cerca di trasporsi sulla tela vi negate dunque ogni creazione mi basta copiare la creazione colori quali hanno creduto di immaginare si sono ingannati da soli eppure il giudizio universale le stanze del vaticano le nozze di cana le allegorie di rubens beh certo un della cruapo permetterselo ma per quanto ci riguarda dobbiamo attenerci a questo lo studio delle scene della natura ciò non vuol dire creare una forma di inferiorità rinnegare il fine della pittura la pittura ha come scopo se stessa il pittore dipinge una mela o un volto sono ai suoi occhi il pretesto per un gioco di linee e di colori niente di più torno a pascal perché ricreare quello che dio ha fatto così bene possiamo fare meglio di lui certamente no in quanto esseri viventi ma in quanto razionali possiamo esprimere un ordine più conforme allo spirito che rappresenta quello che vediamo in natura non segue più l'ordine prestabilito l'uomo ha sconvolto tutto se prendo un fiore riconosco l'opera del creatore ma in una iuola disposta secondo i gusti di un cattivo giardiniere non intravedo più l'armonia di quel fiore questo giardiniere è dappertutto si chiama uomo e martirizza il mondo per utilità guardate il monte il monte san victoire non è forse in rovina ovvero una rappresentazione della manomissione sopraggiunta sin dall'origine dove trovare la natura nel suo insieme divino una volta imperversato il caos accettate dunque che l'artista porti dentro di sé un desiderio di questa perduta armonia e tenti di ricostruirla attraverso i magnifici frammenti che incrociano il suo sguardo come fosse un richiamo a dio e la sua intelligenza esistono in natura due agenti che contribuiscono all'armonia sono la luce e l'aria la luce colora l'aria avvolge non possiamo pertanto decidere di ritrarre solo ciò che combinano questa luce questa aria basta invocare il loro potere per accettare di limitarsi al gioco di colori e valori non potremmo seguire le leggi della natura e applicarle assolutamente no vorrei che lo interpretasse dite e fate quel che vi pare il vostro bello assoluto è una chimera ci fu una pausa durante la quale una cicala si mise a cantare in un campo adiacente dipingere e cantare come questa cicala mi disse Cezanne lo credo ma questa cicala fa solo rumore mentre l'artista aspira all'armonia per scoprirla non sarebbe necessario intuirla e amarla lo studio dell'arte è molto lungo e mal condotto oggi il pittore deve scoprire tutto da solo perché ci sono soltanto cattive scuole dove si mistifica dove non si impara niente bisognerebbe in primo luogo studiare le figure geometriche il cono il cubo il cilindro la sfera quando si sarà in grado di restituire questi elementi nelle loro forme e nella loro struttura si saprà dipingere esse sono contenute evidentemente in tutto quello che vediamo ne sono l'invisibile impalcatura gli antichi avevano impostato come base dello studio dell'arte il geometrico il geometrico e il prospettico cosa intendevano con ciò il geometrico valuta la massa determina la superficie stabilisce i rapporti di altezza larghezza profondità al prospetto delle linee contorni a seconda della distanza in relazione con lo spettatore questo insegnamento era senza dubbio di gran valore è tra le cose più giuste che abbia scoperto durante la mia lunga carriera ma i colori i pittori greci più celebri avrebbero usato secondo plinio soltanto quattro colori era una tavolozza limitata poi attraverso il prisma si è scoperta la composizione della luce io sono per una tavolozza più estesa per la sintesi delle miscele e la ricchezza del dipinto natura ci offre delle infinite varietà di sfumature loro costruivano una scena noi tentiamo di riprodurre un pezzo di natura vi confesso che ho paura dell'eccesso di scienza vi preferisco l'ingenuità vi ringrazio di essere stati qui e di aver visionato il video spero che questa avventura mia avventura su youtube vi coinvolga e spero di avervi come iscritti nel mio canale per cui iscrivetevi e ci diamo appuntamento a martedì prossimo grazie ancora e arrivederci grazie a tutti